ah no, muore all'età di 72 anni Gemma Galgani un incidente stradale Gemma? Galgani quella? purella no è morta porco tu è uscita la notizia su Roma Tutei, abbassa un po' che mo lo dicono l'incidente per annanà, trova Ida la trova Ida? oddio, è morta proprio no, fammi vedere porca puttana, eh, aspetta un attimo sto a vedere su Roma Tutei allora, Gemma Galgani tronista di uomini e donne, vabbè tronista eh, muore ore ecco nove e mezza incidente stradale Brescia-Torino, no oddio no no 72 anni si muore proprio? manca a portarla all'ospedale per dire no, pa di culo grazie a tutti grazie a tutti